bello a tutti ragazzi bentornati sempre qui su una nuova partita del torneo di The Last of Us scusate ragazzi ma sono talmente bravi che faccio fatica a parlare siamo in diretta tra l'altro contestualmente siamo in diretta su Twitch quindi io purtroppo non posso leggere i commenti ma vi ringrazio chi mi segue perché ho scoperto che riesco a streammare su Twitch anche con altre console quindi immaginate cosa si può fare con la PS2 e Twitch va bene allora mi raccomando ok abilità sopravvivenza esperto di bombe livello 3 ti rende immune l'effetto stradente e fumogene cazzo questa è interessante questa mi giunge nuova va bene ragazzi quindi siamo su PS3 il torneone abbiamo per ora fatto solo pareggi non c'è stata una vittoria a pagarla a peso d'oro quindi direi che siamo riusciti a equilibrare abbastanza bene le partite però più difficile è più ti impegna più sono double e is the pride e soprattutto la soddisfazione di poter finalmente ok bene bene ma non benissimo va bene allora siamo di nuovo qui finalmente dove siamo con vanessona scusa io ho la tendenza a dire tutto in one adesso sopra sotto sopra sotto sopra sotto andiamo di qua andiamo un po' vediamo da dove vengono quei maledetti monelli io scommetto no idea qui è rischioso eh però ci proviamo mitici miti ecco come fallire in maniera miserrima anche dai lati porca puttana imbroglione pasquale che fai brava fai questo maledetto pasquale bravo pasquale bravo mamma mia è iniziata malissimo sta partita ragazzi sarà che vanessa un diesel vanessa confidiamo in te vanessa mamma incredibile inizio partita veramente brutto come si suol dire ma proprio brutto brutto adesso ci proviamo cazzo giustiziato nella foga di correre via il vile vedete a volte non funziona incredibile vive vanessa non so che cazzo stia facendo ma va bene così di vanessa ci fidiamo stelti vanessa e stelti a sto giro penso perderemo a questo punto perché se si inizia proprio in maniera becera in questa maniera solitamente allora facciamo così no andiamo no mi manca andiamo oh porca caccia la puttana no ma che cazzo mamma mia che brutta partita no 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 bloccali vanessa bloccali mamma mia che brutta partita ed è edo che mi fa il culo grande edo mamma mia come è iniziata male sta partita dio mio ma che questo è il cucchiaio che vuole vuole rifarsi della della dello smacco e ho perso il bastone maledetti maledetti monelli cioè abbiamo già perso così cazzo male male molto male no 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 perché è venuto ma quanti siete caccia la misera caccia la misera adesso ti disturbo bravi bravi no 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 porcaccia vanessa vanessa salva la partita mamma mia no vanessa mamma mia mamma mia vanessa paurosa is scary vanessa is scary una merda e meno vai io ci provo se salta fuori da lì sono fottuto sappiatelo però lo sapete qual è il motto del canale non mollare mai ma dove cazzo è andato il tipo ma dai ma che cazzo che cazzo è tutti su di me ma che cazzo è un cartone animato cioè non riesco a far mare non riesco a prendere pezzi maledetta sta partita è veramente lì delizia gode in tutto questo maledetta delizia cazzo sta partita tanto di cappella mchia ita al cucchiaio ecco ita al cucchiaio grande mitico ita al cucchiaio ma ne abbiamo interrogato no siamo sempre no cazzo quando inizi col fallimento la via del fallimento è una via ardua eh se ci pensate adesso posso per favore craftare bravo ok adesso andiamo sopra qui sopra vanessa dovremmo presidiare la cassetta ma a questo punto grande vanessa stelti vanessa e stelti ok possiamo fare questo possiamo fare una molotov possiamo prendere a posto così e che passano sicuramente da qua sotto ragazzi è un casino porcaccia la puttana Eva ma come facciamo a presidiare? oh caputana guarda guarda come segue questa prendendo la mera chiunque tu sia naturalmente ci saranno i compagni che faranno dai dai prendilo 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 si minchia edo edo è la seconda volta che mi fotti così in maniera misern dai però un interrogatorio l'ho fatto e quindi sono contento e quindi basta cioccolatino per me dopo mi vado a prendere subito un lindor per festeggiare per coronare questo fatto incredibile santinumi ragazzi quando cominci a fallire quando cominci a fallire chi è che ho giustiziato? dai 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 che fosse un pareggio un mitico pareggio io ci provo lo so che è rischioso ragazzi sperando che non vengano subito respawnati dai 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 no 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 si dai 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 chissene chissene beh io ci provo provo subito l'affondo minchia ragazzi sono già qui ragazzi la tensione palpabile noon non non Uniforme a terra Quello stronzo non si rialza Ok Minchia Vanessa Uccisa così Ok ragazzi Mamma mia che tension Chissà dove cazzo sono Guarda lì come mettono Queste api operaie Come mettono ragazzi Questo torneo sta veramente Prendendo una brutta piega Io qui non ne uscirò lo so già Santinumi Qui rischio veramente Che mi prendano le spalle Ce la farò andare lì sopra Penso di sì No Vanessa Che cazzo vai di qua Ok ok Dai fra Perché non state presidiare Perché non state presidiare Maledetti monelli Bomba innescata Beh io ci provo Ecco dietro No 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 Che affare Ragazzi io non riesco a parlare Siete troppo bravi 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 Proud of you Veramente bravi Cioè è una roba incredibile Se state cerchendo Siete veramente bravi E tra l'altro Ho immensamente paura Che adesso finirà a merda Perché ci sarà sicuramente Un infiltrato qua Vediamo un po' Quindi Ok Andiamo qua dietro Craftiamo Crafting is not a crime Ricordatevelo sempre Sempre questa regola Adesso piano piano Ora piano piano Cerchiamo Di andare a prendere sicuramente Un prezzesissimo materiale Mi raccomando Vanetto No merda Ah cazzo Maledetto Maledetto E forse è un altro Ragazzi a questo punto Io starei veramente A presidiare Chissene Non saprei veramente Che Questa che è Vanessa Vanessa rimani Mi raccomando A presidiare Vanessa presidio Vanessa una di noi Cazzo Uuuu Ok Quindi direi Di a questo punto Mettere bombe Più o meno Ovunque Qui Ok Andiamo di sopra Dove Ho il timore Che sia già arrivato qualcuno Nella speranza Speriamo di essere Abbastanza veloci Ok Ok Si può fare anche una di queste Una di queste Sicuro Ok Dai Perfetto Beh dai Tanto so che qui dietro C'è qualcuno Oddio 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 Grande Grande Dai che ce la facciamo Vai 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 Taglia cucchiaio Dai per una partita Forse ce la facciamo Incredibile Dai Grande Grande E abbiamo Uomo partiti All'Italia cucchiaio Mi raccomando Vanessa Invece tu Non ti fare Non ti fare Ammazzare Così come una Una poveretta Grandissimi abbiamo vinto Mitichi Miticissimi Grandi Alla prossima Ragazzi Forse probabilmente Twitch ero ancora Quindi state Sicuramente connessi Se no vi avviso Su Twitch Su Twitter Scusate Bella a tutti Scusate Scusate